stati generali del turismo con vista su pesero 20 24 mattinata d'incendi fra pesero fano e urbino ultimo miglio per completare la ciclabile di via fratti la finanze per tutti nuovo appuntamento del mercoledì di rossini tv torna il rally delle marche ed è già sold out buonasera buonasera a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione di rossini news telegiornale di martedì 10 di ottobre che apriamo occupandoci degli stati generali del turismo ovvero l'annuale appuntamento sull'analisi dei flussi turistici del nostro territorio organizzato dal comune di pesero che si è davvero concluso da pochi minuti nella sede di alpitur e in un pomeriggio che è stato interamente proiettato al countdown imminente verso pesero capitale della cultura 2024 l'edizione 2023 degli stati generali del turismo non poteva che essere monotematica l'appuntamento con pesero capitale della cultura è tanto epocale quanto ormai prossimo una manciata di mesi ecco allora che questo pomeriggio nella sede pesarese di alpitur amministratori operatori stakeholder di turismo e cultura hanno calibrato le riflessioni sulla stagione trascorsa e l'impronta culturale che marchierà i prossimi mesi innanzitutto Bergamo ha deciso con Brescia di anticipare la propria chiusura al 19 di dicembre il che vuol dire che il passaggio di consegne avrà in quella data e che vuol dire che siamo già formalmente in quella data in carica e responsabilizzati ad essere ufficialmente la capitale italiana cosa che avverrà naturalmente quando sarà il capo dello Stato a San Cirlo con una data che stiamo individuando nella seconda parte di gennaio ma è chiaro che era tutto un insieme di momenti a partire dello stesso capodanno diventa un'altra narrazione diventa già una città come già lo si è percepito anche quest'estate la puntista turistica lo abbiamo visto anche dai dati anticipati oggi una sostanziale tenuta rispetto a dati importanti del 2022 quando invece ci si aspettavano crolli chissà di quale percentuale rispetto ad altri ambiti invece una stagione che sta andando ancora avanti dal punto di vista del mare dal punto di vista della cultura dei musei e crediamo che questo sia dovuto anche al lavoro seminato diciamo nei scorsi mesi e soprattutto a quella che è un po' la promessa rispetto alla capitale del 2024 che c'è già la curiosità di venire a conoscere racconteremo le situazioni principali che si svilupperanno ovviamente come detto l'apertura ovviamente un 29 di febbraio che il compleanno bisestile di Rossini avrà un sapore ancora più importante quest'anno lo farà la grande sfera che abbiamo individuato come elemento iconico un po' come la bello della vita dell'expo abbiamo detto questo corpo tecnologico che campeggerà in piazza del popolo per tutto l'anno e che non sarà solamente bello da vedersi ma racconta la temi racconta la storia lo farà in maniera collegata con la rete lo farà in maniera collegata con i temi di cambiamento climatico ad esempio ma anche con le istanze artistiche di tanti creativi che potranno entrare in rapporto con questo strumento da pesaro ma anche da tutto il mondo una capitale che sarà fatta di tantissimi eventi partecipati dalle scuole abbiamo oltre 70 scuole ad ora coinvolte nella provincia capite che questo genererà decine e decine di momenti e genererà anche un sentimento penso da parte dei nostri visitatori temporanei e dei viaggiatori temporanei che verranno a visitare la città e la provincia di un territorio che veramente brulica e di cultura e aspettava da tempo un'opportunità come questa. 365 giorni che però vogliono essere diciamo un momento culminante di un percorso che è già iniziato e che per noi deve avere un effetto almeno di dieci anni. Dobbiamo vivere questa opportunità un po' come è stato per Matera anche sicuramente in scala minore essendo italiane non europee ed essendo molto minore i finanziamenti però con quella visione lì con l'idea di migliorare la visione anche culturale di accoglienza turistica nella nostra provincia. L'esempio di Matera ma anche quello di Procida capitale della cultura 2022 che è stata tema di riflessione del talk d'apertura degli stati generali moderato dalla direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi fra gli interventi del sindaco Ricci del presidente della campagna De Luca in collegamento e di Agostino Ritano direttore artistico della candidatura sia di Procida che di Pesaro. Il valore di una capitale italiana della cultura è anche nella sua capacità di sviluppare una grossa ed importante attrazione per il mercato del turismo l'abbiamo visto proprio a Procida nel 2022 dove grazie alla programmazione culturale il mercato del turismo quindi le presenze hanno marcato un più 140 per cento quindi significa che l'operazione di una capitale della cultura se ben condotta ovvero con dei contenuti culturali di grande qualità genera due benefici il primo beneficio sulla comunità locale il secondo beneficio è sempre sulla comunità locale in realtà che si rappresenta al mondo intero ospitando appunto turisti e viaggiatori da tutto il mondo. E' stata una mattinata di intenso lavoro per i vigili del fuoco con diversi incendi sviluppatisi nel giro di poche ore. Il primo attorno alle 7 e un quarto è avvenuto nella discarica di Monte Schiantello dove i vigili del fuoco del distaccamento di Fano sono intervenuti per un rogo scaturito da un cumulo di sfalci e potature che è stato circoscritto e messo in sicurezza nel giro di due ore. Paura invece ad Urbino quando alle 10.55 ha preso fuoco un autobus di Ami della linea 3D che viaggiava in direzione Dini. L'incendio si è sviluppato nella zona motore di un city tour Iveco e l'autista accortosi di quanto stava accadendo ha prontamente fermato la corsa in via Legramci e ha fatto scendere i passeggeri. Autista che ha poi condotto l'autobus in una zona più isolata per procedere a spegnere il principio di incendio con il supporto di colleghi sopraggiunti immediatamente. Ami ha avviato le verifiche sull'accaduto. Alla stessa ora a Pesaro un'automobile Range Rover Discovery ha preso fuoco mentre stava transitando in via Bedosti non lontano dalla Vitri Frigo Arena. Il rogo innescato da un cortocircuito al motore ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno transennato e messo in sicurezza l'area, illeso il conducente dell'automobile. Quattro lavoratori in nero sono stati scoperti durante i controlli dei carabinieri di Fano e del nucleo ispettorato del lavoro in una discoteca di Cagli. Irregolarità che costata o sanzione superiore ai 20.000 euro e la sospensione dell'attività imprenditoriale del locale fino ad avvenuta regolarizzazione. Nello stesso contesto due avventuri del locale sono stati trovati in possesso di dosi di hashish per uso personale con conseguente segnalazione alla prefettura di Pesaro e Urbino. Ed ora lasciamo la crona che parliamo di lavori pubblici. A Pesaro infatti si avvicina il completamento della pista ciclabile di Via Fratti al quale seguirà anche la realizzazione di una nuova rotatoria. Un nuovo snodo strategico della Bici Politana che analizziamo attraverso questa intervista all'assessore all'operatività Enzo Belloni. La Bici Politana sta per raggiungere qualche centinaio di metri tra i più significativi quelli di Via Fratti, un lavoro complesso che sta per vedere la luce. Sì, devo dire che è un lavoro complesso soggetto a molte critiche perché è grande e stretto, ci sono i cordoli, le macchine non vanno piano, le biciclette in mezzo alla strada. In sostanza è una ciclabile di due metri e mezzo con il cordolo di protezione, a doppio senso di marcia, con oltre 50 alberature già messe a dimora e con un'illuminazione nuova che ci permette di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni in un tratto dove i cittadini dicevano si va troppo forte, ogni tanto c'è un incidente, c'è un pericolo vero e noi abbiamo ampliato la nostra Bici Politana in un tratto strategico e completato il lavoro della ciclabile andremo a realizzare anche la rotatoria all'intersezione con Via Madonna di Loreto appena termineranno i lavori di Via Carloni perché non vogliamo mettere in ulteriore sofferenza quel tratto autostradale, contemporaneamente partiremo con la progettazione della ciclabile su Via Giolitti perché poi l'obiettivo nostro è quello di arrivare da Via Flaminia a Via Milano con la ciclabile. Perché questo? Perché quando è nata Via Giolitti, Via Ponchielli, Via Frati, era una sorta di circonvalazione della città, ora con i lavori su Via Carloni, con tutti i lavori complementari che Società Autostrada sta per partire, quella sarà una via urbana, non sarà più la circonvalazione della città e ci sembrava giusto mettere in sicurezza i pedoni, mettere in sicurezza i ciclisti e dare una dimensione diversa a quel pezzo di città. Il lavoro si terminerà nel giro di qualche settimana, la cifra impegnata è oltre 400 mila Euro, compresa la rotatoria e compresa l'illuminazione perché se è fatto un passaggio di notte, vedete insomma che è cambiata totalmente la dimensione di quel pezzo di città e ripeto, ci sono state, come succede spesso, molte critiche, però contiamo di aver fatto un buon lavoro e di dare un buon servizio alla città. Altre strade, quelle della provincia dell'entroterra che oggi hanno visto il sopralluogo di Francesco Baldelli, assessore alle infrastrutture della Regione Marche, che ha stanziato 13 milioni di Euro su E78 e strada della Val Cesano. Sopralluoghi che hanno riguardato i lavori in corso sulla Fano Grosseto, Fra Bellocchi e Lucrezia e fra la Statale 424 in località San Savino di Frontone e nelle due città di Pergola e Cagli. Nelle prossime settimane partiranno anche i lavori per la sistemazione della pavimentazione stradale dissestata nei comuni di Mondolfo, San Lorenzo in Campo e Trecastelli, così come i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in alcuni tratti fra Pergola e Marotta. Ed ora ci occupiamo di un nuovo programma informativo che parte su Rossini TV da domani sera. Si intitola La finanza è per tutti e si tratta di 10 puntate per 10 mercoledì dedicati a pillole di educazione finanziaria a cura di Banca Uidiba. Si comincia domani dunque alle 20 e 10 e andiamo a conoscere il nuovo format attraverso la voce di Barbara Strapazzini di Banca Uidiba intervistata dal nostro Antonio Astuti proprio negli studi del nuovo programma. L'11 ottobre partirà un nuovo format di Rossini TV realizzato in collaborazione con Banca Uidiba. La finanza è per tutti. Come meglio muoversi in un momento di grande difficoltà per quello che riguarda la congiuntura economica. Ne parliamo con Barbara Strapazzini, District Manager di Banca Uidiba, Pesaro, Ancona. Partiamo dal titolo. La finanza è per tutti. Io vorrei dire che la finanza deve essere per tutti e può essere per tutti. Se ci pensiamo ogni giorno nelle nostre azioni, nelle nostre scelte quotidiane facciamo scelte che hanno una valenza anche di tipo economico molto spesso. Noi italiani siamo considerati un popolo di grandi risparmiatori ma al tempo stesso, se andiamo a vedere i dati di educazione finanziaria del nostro popolo, degli italiani, siamo tra i più indietro nelle graduatorie a livello internazionale. E quindi noi consulenti finanziari di Banca Uidiba, io con i miei colleghi che oggi qui sto rappresentando, abbiamo deciso di dare una risposta alle persone, agli telespedatori di Rossini TV attraverso questa serie di dieci pillole di educazione finanziaria. Banca Uidiba è una banca nata dieci anni fa ormai, questo il prossimo anno è il nostro compleanno, compiamo i dieci anni, fa parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena ed è una banca estremamente innovativa che unisce due anime, l'anima dell'innovazione digitale in risposta a tempi che cambiano e a bisogni che cambiano e al tempo stesso l'anima della relazione tra il cliente e il proprio consulente, siamo vicini alle persone. Uidiba mi piace sempre dirlo e raccontarlo che è un nome che sembra un po' astratto, in realtà è un acronimo e significa WISE Dialogue Bank, quindi una banca basata su un saggio dialogo perché è dal dialogo e dall'ascolto che si genera durante un dialogo che possono nascere risposte adeguate e vicine ai bisogni delle persone. Sono dieci pillole come dicevamo, si parlerà del risparmio, di come risparmiare, di quello che può essere il danno provocato oggi dall'inflazione sulle nostre tasche, su come investire, parleremo del mutuo, parleremo di previdenza. È chiaro che con una pillola di 5-6 minuti non possiamo pretendere di essere esaustivi, però è fondamentale offrire degli spunti di riflessione alle persone e iniziare ad aiutarle ad orientarsi. Poi c'è sempre appunto il consulente e l'interlocutore di riferimento in ambito bancario e finanziario che deve supportare il cliente e le persone a trovare le risposte più adeguate e vicine ai loro bisogni e ai loro obiettivi. Noi siamo a Pesaro, in Piazza del Popolo e ad Ancona, in via San Martino, abbiamo questi uffici, siamo vicini alle persone e ogni giorno facciamo questo, provare ad ascoltare e dare risposte. È partita di slancio la sessantesima edizione della mostra del tartufo bianco di Sant'Angelo Invado. Andiamo a vedere le immagini di questo primo di quattro weekend, ricordandovi che ci sarà anche un ulteriore approfondimento attraverso lo speciale realizzato da Rossini TV che andrà in onda domani 11 ottobre a partire dalle ore 21.40. Stefano Parri, sessantesima edizione della mostra nazionale del tartufo bianco, un numero direi abbastanza importante. Sì, un numero importante, siamo per longevità i primi delle marche e siamo in Italia i secondi solo ad Alba, una ricorrenza importante che mette insieme tutto il territorio di Sant'Angelo Invado, tutti i soggetti che negli anni hanno contribuito al successo di questo evento. Sì, sono 46 anni quest'anno che siamo qua a vendere i tartufi, speriamo di durare altri 46 anni ancora. Sant'Angelo Invado che è parte di un territorio molto fortunato nelle marche perché abbiamo tartufo di qualsiasi tipologia ma anche quasi tutto l'anno praticamente. Sì, sì, i tartufi ci sono tutto l'anno, bianchi, neri, bianchetti di diverse varietà in diversi periodi della stagione, ci sono sempre voglio dire, tranne due mesi che c'è un po' di fermo biologico cosiddetto. Quest'anno la stagione è partita un po' meglio rispetto all'anno scorso, per le piogge probabilmente di giugno, quindi il prodotto è discreto, ce n'è come quantità discreta, la qualità è ottima e buona e anche il prezzo rispetto agli altri anni è un po' più basso, quindi può essere degustato quasi da tutte le persone. Offriamo una serie di eventi, non solo di tipo gastronomico, chiaramente il fulcro è quello lì, però Sant'Angelo offre anche un patrimonio culturale e anche ambientale di particolare pregio e rilevanza, quindi tutti quelli che vengono a Sant'Angelo possono usufruire di questo territorio a 360 gradi, del buon cibo, passeggiate, escursioni, chiese, monumenti, domus. Sant'Angelo in Vado è un luogo veramente ricco, noi abbiamo una storia millenaria perché partiamo con una città romana che era la Tiferno Mataorense, dove invito tutti a venire a visitare la Domus del Mito, che è uno dei ritori archeologici più belli d'Italia e sono 1200 metri quadrati di mosaici bicrome e policrome, veramente di una freschezza, una bellezza più unica che rara. Dopodiché abbiamo tantissime chiese, abbiamo tantissimi musei, perché comunque siamo sempre stati una città legata al mondo della cultura, al mondo dell'arte e al mondo della chiesa, quindi le numerose chiese che abbiamo sono già di per sé loro contenitori di grande bellezza, ma contengono in più anche mostre d'arte in questo periodo che veramente arricchiscono ancora di più quello che è una ricchezza naturale del luogo. Il piacere e l'onore di avere ai nostri microfoni Mauro Iassi, una delle eccellenze del territorio, titolare del ristorante Iassi, Tre Stelle e Michelin. Oggi riceve un premio che va ad aggiungersi ai tanti premi della carriera e cioè il Tartuffo d'Oro qua a Sant'Angelo in Vado. Siamo onorati, siamo felici, abbiamo il cuore in festa perché ogni volta che ti premiano in modo inaspettato, quindi c'è la sorpresa, c'è la meraviglia, uno non può essere che contento. Sant'Angelo è un posto bellissimo che già conoscevo, famoso per il Tartuffo ma anche proprio per come è fatto il paese. Ripeto, siamo nel senso che io sono Mauro Gugliassi, proprietario del ristorante di Simeone e sorella, ma in realtà è un gruppo di circa 40 persone per cui questo è un premio che va a tutto quanto al ristorante. E proprio a Sant'Angelo in Vado ma anche a Monteporto sono appena state inaugurate due nuove sale del regno dei testimoni di Geova, due eventi che seguono le inaugurazioni avvenute a Coglie al Metauro e a Iesi tra maggio e settembre. La sala del regno di Monteporto ha subito un profondo intervento di ristrutturazione e ora potrà ospitare 130 persone per riunione. A Sant'Angelo in Vado il nuovo luogo di culto è stato invece costruito in via Inaudi e ospiterà circa 100 testimoni di Geova. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di cultura. Giovedì 12 ottobre alle ore 21 inaugura la stagione di prosa 2023-2024 targata Amat che torna al Teatro Rossini. A tagliare il nastro sarà il One Woman Show di Chiara Francini con il suo spettacolo Forte e Chiara che ripercorre l'omonima autobiografia dell'attrice. Sarà la seconda performance del tour in Cento Teatri della Francini dopo la prima assoluta prevista domani a Fabriano. Invece domani appuntamento nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini con il concerto di Munedaico, gruppo formato da tre fratelli italo-giapponesi che presentano una performance di musica, teatro e danza fondato sull'arte delle percussioni tradizionali giapponesi. E poi vi segnaliamo che domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 18, nell'auditorio di Palazzo Montani Antaldi, si svolgerà l'inaugurazione dell'anno accademico del 34esimo anno dell'Università dell'Età Libera. Inaugurazione affidata alla lezione di Luciano Canfora dedicata al mondo romano antico dal titolo Sallustio, Catilina e Concetto Marchesi. Ed ora lo sport. La Carpegna Prosciutto Basket Pesero comunica che viene riaperta la campagna Abbonamenti. Sottoscrivendo la tessera annuale a partire da domani fino a giovedì 19 ottobre, sarà possibile assistere ai 14 match che vedranno impegnata la formazione bianco-rossa, ancora una volta nel campionato di Serie A sul parquet della Vitri Frigo Arena. L'abbonamento si può sottoscrivere presso la sede Vueli di Via Bertozzini dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. E continuano i tanti appuntamenti motoristici nel nostro territorio. Pochi giorni fa c'è stata la Coppa Faro, da venerdì arriva invece il ritorno del Rally delle Marche. 13, 14, 15 ottobre, terza edizione del Rally delle Marche, un evento relativamente giovane ma che già riscuote tanti consensi, come dimostra già la tanta partecipazione di iscritti a questa edizione. Sì, anche quest'anno è la terza edizione, abbiamo fatto il pieno, siamo molto contenti. Abbiamo 200 partecipanti che provengono da tutta Italia e quest'anno anche dall'estero per la prima volta. Abbiamo chiuso a 200 partecipanti per non creare troppa confusione e per rendere l'evento non troppo impattante anche a livello ambientale. Venerdì è dedicato all'arrivo dei partecipanti. Sabato mattina si parte verso le 8 e si effettua un percorso turistico attraverso strade di particolare interesse paesaggistico. si arriva fino all'apennino e poi si torna in serata al paddock. Il paddock si trova al mare alla pala di pomodoro. Domenica si effettua la stessa cosa, si parte sempre la mattina alle 8, si va verso l'interno e poi si ritorna verso il primo pomeriggio in modo che i partecipanti hanno il tempo necessario per ricaricare le moto e tornare a casa. Questo è il terzo anno per noi che partecipiamo come sponsor. È una partnership ormai assodata, quella tra noi e il Rally delle Marche. Anche quest'anno invieremo una squadra dei nostri ragazzi che insomma si sono meritati l'onere e l'onore di partecipare come squadra di EG Motorsport. La promozione del territorio è un valore che sosteniamo assolutamente anche noi, tant'è che ci piace partecipare a questi eventi. Pesaro, terra di piloti motori e noi siamo molto felici di poterne fare parte. Ricordo che il Rally delle Marche non è un evento competitivo ma è una passeggiata turistica con l'obiettivo di promuovere il territorio della provincia di Pesaro e della regione Marche. Sono aperte tutte le moto, chiaramente in regola con i coci della strada, proponiamo un percorso touring quindi completamente asfaltato, poi proponiamo due tipi di percorsi che percorrono strade asfaltate secondarie e normali strade bianche e poi c'è il percorso adventure che è un pochino più, diciamo, non dico difficile, però percorre anche delle strade comunali sempre aperte al traffico, però magari dove bisogna stare un po' attenti, con un fondo magari sdrucciolevole per dare un po' di pepe al partecipante che ha un po' più di esperienza di guida in fuoristrada. Il DG Motorsport si è impegnata, grazie a Alessandro, di portare dei mezzi che appunto è il connubio perfetto Tenere e Rally delle Marche. Avremo la Tenere World Raid, la Tenere Rally e la Tenere World Rally che sono le ultime tre arrivate di Casa Madre e le faremo provare il venerdì pomeriggio, sabato tutta la giornata e anche domenica mattina. È un evento di grande interesse che promuove il nostro territorio, un po' quello che stiamo cercando di fare da diversi anni, promuovere quelle che sono le eccellenze della nostra città, del nostro territorio, come quello della cultura dei motori, la cultura motoristica. Ringrazio Alessandro Tamburini perché su questo è un'eccellenza, un pesarese DOC che promuove il nostro territorio non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. L'idea che abbiamo avuto qualche anno fa di far sì che le Marche diventasse una terra di piloti di motori è un'idea che è stata sicuramente vincente. Ricordo che ancora qualche settimana prima c'è stata la Settimana Benelli organizzata dal Motoclub Benelli, dove anche lì c'erano centinaia di motociclisti non solo dall'Italia ma anche da molti paesi europei. Poi c'è stata la Coppa Faro, la prossima settimana come dicevi domenica questa ci sarà il Motorraduno Sant'Angelo Invado che quest'anno compie 45 anni e questa iniziativa del Rally delle Marche è un'iniziativa importantissima perché veramente sono tre giornate alla scoperta di quelle che sono le bellezze che il nostro territorio riesce a proporre sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista gastronomico, quindi una bella iniziativa. Queste sono realtà dove veramente vengono persone che si fermano da noi e io devo dire che in appena un mese sono secondo me anche più di mille le persone che sono venute in città solo per iniziative organizzate legate alla terra dei piloti dei motori. Quindi complimenti a tutti e io devo dire che noi continueremo a puntare su questo tipo di promozione perché ritengo che sia vincente ma soprattutto che sia un tipo di promozione diversa rispetto a quella che viene fatta normalmente che in molte regioni ancora non fanno. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News e come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo il nostro appuntamento con la prima serata di questo martedì che alle 21.20 è dedicata ad una marcia d'avvicinamento al Festival GAD. Festival GAD che comincia la prossima settimana con il concorso che è già iniziata ieri con una anteprima verso il Festival GAD approfondiremo i temi di questa 76esima edizione con il direttore artistico Cristian della Chiara intervistato dal nostro Paolo Pagnini e a seguire anche la commedia Don Quixote Sancho Panza della compagnia Calandra Teatro. E poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini e la nostra rassegna stampa che come sempre vi tiene compagnia dal lunedì al sabato. E poi ve l'abbiamo annunciato anche durante il telegiornale, nuovo programma su Rossini TV, nuovo programma di educazione finanziaria, pillole di educazione finanziaria attraverso il supporto di Banca Uidiba, il nuovo programma si intitola La finanza è per tutti, 10 puntate per 10 mercoledì, prima puntata dedicata a emozioni e finanza, il ruolo del consulente finanziario con ospite Sabina Barontini, consulente finanziario Banca Uidiba. Appuntamento come detto alle 20.10, prima replica alle 22.30 e poi tante repliche che vedete in grafica dal giovedì al lunedì. Ed è davvero tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie. Grazie.